ciao a tutti oggi siamo sul morterone dopo un'ora di pianura siamo arrivati a ecco 27 chilometri da lì iniziata la salita ormai sono 12 chilometri di salita non è male non c'è nessuno non c'è nessuno mi sono tolto anche la bandana perché comunque non c'è un'anima viva si sta bene ci sono 28 gradi ogni tanto qualcuno passa insomma ce la stiamo viaggiando anche oggi ragazzi buongiorno dal mortirolo siamo partiti da un'ora sono le 9 sono 12 chilometri di salita per adesso tutto bene posto da paura fa freschino sono 9 gradi mancano 100 metri che sono su quindi sono intorno ai 1.750 mancano 100 metri di slivello e mortirolo non ci posso credere ma è mortirolo ci vediamo sul cavia ciao ragazzi 2600 metri siamo quasi in cima la cavia la faccia un po' diversa da stamattina eh però va bene siamo quasi arrivati panorama meglio stare zitti da ponte sono 16 chilometri di salita mancano 500 metri beh la faccia è la mia non cambia mai e quindi ci siamo arrivati voglio voglio questa è una salita eh questa è una salita si questa le rampe a 14 a pioggia a pioggia veramente e e questa è una salita eh insomma e questa è una salita che ti dà soddisfazione sono soddisfazione bella lì va bene le gambe insomma non è che ce n'è ancora tanto però va bene va bene va tutto bene ci sono 17 gradi sono abbastanza stanco diciamo che questa salita l'ho tirata l'ho tirata tutta non so se riesco a fare anche il tonale ma non lo so c'ho 2800 metri di dislivello sulle gambe sono solo 600 ma non so se ce la faccio è già tanto arrivare qui minchia che roba voglio guarda che roba guarda lì ci rivediamo su a rifugio ciao siamo arrivati siamo arrivati 2650 rifugio bonetta siamo arrivati con Alec mi fa male tutto, mancano 100 metri di dislivello, sono quasi arrivato, è finito tutto, è finito tutto ma ci sta, questa salita è un po' più adatta a me, mi sono messo di testa come si dice Hammer Time, anche qua ci abbiamo dato dentro, è comunque un sacco di dislivello. Non manca molto, mancherà penso un chilometrino, il panorama è sempre da paura, dopo questa basta, vado a casa. E ce l'avevo fatta, grande figa! Ci siamo, siamo arrivati, 93 chilometri, 3300 metri di dislivello, sono in sella dalle 8 e sono le 3. Ok, basta! Ok, basta! Buongiorno a tutti! Oggi siamo sul muro di Sormano, come notate dal respiro, qui è dura, molto dura, diciamo che non è lunga, è 2 chilometri e mezzo, ma diciamo che ci sono delle punte oltre il 20% e quindi si sbuffa e sono appena partito e i tratti duri devono ancora arrivare e quindi sarà una bella sbacchinata. Facciamo il primo tornante insieme, che mi si impenna il davanti, eccolo qua! Ci vediamo su! Ciao! Finito! Siamo su! 1100! Finito, non ce n'è più! C'è la sbarra! Qui non si gioca! No! Qui non si gioca! Si gioca a calcio, si gioca a tennis, ma qui non si gioca! Ecco la sbarra! E siamo arrivati! Qui non si gioca, veramente! Rapporto utilizzato 34 per 42, il 50 dietro non l'ho mai messo e anche stavolta ce l'abbiamo fatta! Ciao! Ciao!